Bentornati nel nostro viaggio alla scoperta dell'Avaman, il discorso dell'eccesso, ovvero di Odino. Come vi anticipai nei video scorsi, questa serie sarà lenta ma densa di significato, colma di quella che potrebbe essere l'esperienza di un viaggio spirituale. E proprio da questa affermazione vorrei riprendere con voi la lettura. Ma prima permettetemi una piccola digressione, o per meglio dire, un piccolo approfondimento. Come abbiamo visto finora, ovvero dalla prima fino alla nona strofa, alleggia sì la figura dell'ospite, e da qui viene il nome, ma anche la figura del viandante. In passato, qui sul canale, approfondimmo insieme questa figura, ma ne voglio approfittare per ricordare a tutti chi era il viandante. Ovviamente, in questo caso specifico, è Odino stesso il viandante. Ed è così, in molte saghe, uno dei travestimenti tipici del dio era proprio quello della persona senza fissa dimora. Ma per la cultura nordica rappresentava anche altro. Prima di tutto dobbiamo chiederci, ma esistevano queste tipo di persone? Ovvero, esistevano dei viandanti che praticavano azioni ascetiche in ritiro, lontano dalla gente comune? La risposta potrebbe essere scontata, ma dobbiamo capire anche le fonti e dove possiamo trovare questa prova, tra virgolette. Ebbene, un esempio accennato lo troveremo nel Lavamal stesso, per la precisione, nel raggruppamento di strofe denominato Lodfavnismal. Un essere misterioso, alle quale vengono insegnate cose altrettanto misteriose, ma ci arriveremo a tempo debito. Prendiamo questo come esempio ed inglobiamolo nelle prossime letture. Ricordandoci anche che il viandante senza fissa dimora è sinonimo anche di sapienza, ovvero di libertà. Un archetipo di viandante, non solo senza fissa dimora, ma bensì alla ricerca di qualcosa o per tramandare qualcosa. Intrigante, no? Bene, caro clan, fatta questa piccola annotazione, possiamo iniziare con la strofa numero 10. Miglior fardello non si porta per la via di un gran buonsenso. Migliore della ricchezza appare in un luogo sconosciuto. Questo è il riparo del povero. Beh, qui si fa un'allusione molto molto ben specifica al buonsenso. E possiamo trovare questa specifica annotazione proprio nella parola mannanvit. Sembra piuttosto indicare una sorta di saggezza innata. Non una saggezza già conquistata, ma una saggezza che ha a divenire. E questo lo potrà fare solo con l'esperienza, con il viaggio, con la fiducia in se stessi e con l'accortezza, che abbiamo già imparato nelle strofe precedenti. Beh, bisogna anche precisare che in questo decimo verso possiamo anche capire che, sì, possiamo portarci di tutto dietro attraverso il nostro viaggio sia spirituale, ma sia anche proprio viaggio inteso come prendere lo zaino in spalla ed andare verso mete sconosciute. Possiamo portare di tutto, zaini pieni di provviste, ma questa roba, oltre ad essere un fardello, appunto un peso, destinato a deteriorare, sarà anche una cosa di per sé inutile. Perché il miglior zaino che possiamo portarci dietro è appunto la nostra conoscenza, la nostra sapienza, la nostra opulenza, ritornando al principio del discorso. Miglior fardello non porta l'uomo per la via di un gran buonsenso, peggior viatico non si porta sul campo di una smodata bevuta di birra. Qui fa un leggero accenno sul, sì, ti puoi anche divertire, ma devi tenere sempre la mente lucida. Non ti puoi permettere di essere sopra le righe, non ti puoi permettere di avere la mente offuscata. Tutto ciò che abbiamo di più prezioso a questo mondo è proprio la nostra mente. Non è così buona come buona dicono la birra dei figli degli uomini, poiché meno è conscio quando troppo beve l'uomo di se stesso. Qui le strofe continuano a sottolinearci, appunto, il pericolo stesso di essere incosciente in un luogo che noi non conosciamo bene. Come possiamo leggere dal libro, l'ebrezza provocata da una bevanda umana impura, non conduce l'uomo verso l'alto, intacca solo la sua tempra conducendola alla disperazione nei recessi oscuri della psiche, in un tetro labirinto senza via di uscita. Certo, noi possiamo vedere nelle saghe, e lo facciamo anche durante i blot o durante alcune festività di alzare calici. E non è vietato, assolutamente. Ma dobbiamo sempre tenere a mente il nostro limite, il non diventare totalmente offuscati, il non farci prendere preda di queste cose. Airone dell'oblio si chiama quello che indugia sui banchetti. Questi ruba l'animo dell'uomo. Con le penne di quest'uccello, io legato fui nella dimora di Gundlod. In questo verso, Lavamal fa proprio riferimento a quel carne dove Odino rubò, appunto, l'idromele della saggezza, e poi portandolo via lo fece cadere un po' sulla terra. Ma non solo in questo, proprio la strofa stessa, facendo la metafora dell'airone e dell'oblio, fa riferimenti molto specifici al carattere esoterico del testo e al carattere esoterico anche della ricerca, del viaggio verso se stessi. Ora, non voglio approfondire perché non è questa la sede e non sono io uno adatto per farlo, ma potrete ricercare da voi stessi, se siete curiosi, in antichità. Questo riferimento del volo, del viaggio, era molto, molto legato tra di loro. E, usandolo qui nella strofa, appunto, sottolinea e amplifica di più il fatto che non è solo un viaggio fatto con le gambe, ma un viaggio molto più profondo, quello che stiamo affrontando. Ebru, divenni. Divenni ubriaco fradicio, presso il savio Fialar. In quel caso sia il miglior banchetto quando riprendo ognuno i propri sensi. E qui, appunto, si ritorna al discorso di prima, fa di nuovo riferimento a quell'avvenimento di quando lui stesso rubò l'idromele magico. Una delle conclusioni che vi vorrei proporre e che dà il libro è appunto questa. La conquista del Miodr, ovvero dell'idromele, da parte di Odino, preceduta dall'affascinazione della sua custode, ovvero Gumlod, potrebbe essere sotto il segno di Freya e della magia del Seidir, che ella stessa avrebbe insegnato al terribile, ovvero ad Odino. L'episodio rievocherebbe immagini di iniziazioni legati alla birra e alla donna. Qui, infatti, se noi andiamo ad approfondire, come dicevamo prima, ai banchetti, a quando si fa il blot, l'alcol è sì parte importante di questi rituali, chiamiamoli così, tra virgolette, ma è una cosa alla quale non bisogna cadere schiavo. È una cosa che devi essere capace di padroneggiare e di saper usare nei momenti giusti. Silente e attento deve figlio di re e audace in battaglia essere. Solare e gaio deve ciascun uomo essere finché morte non patisca. Beh, qua è molta esplicita la situazione. Le frasi sono esplicite. Il comportamento che uno deve apprendere e di conseguenza stessa portare in campo sono appunto l'attenzione, l'essere solare, l'essere presente, l'essere audace e anche mantenere la parola stessa. Ce la metto io questa. Non bisogna stare a rimuginare sopra le cose, a tormentarsi, bisogna sapere agire con mente lucida, con mente veramente razionale, per quanto si può, ovviamente. L'uomo egnavo pensa che in eterno vivrà se evita la battaglia, ma la vecchiaia darà a lui alcuna pace, anche se gliela dessero le lancia. E come dire, meglio evitare il confronto, tutto passerà. Non voglio avere problemi. Quante volte diciamo, meglio star zitti per amore della pace, non affrontiamo le situazioni, lasciamole lì come sono. Beh, questo a cosa porterà? Molti di noi purtroppo lo sanno bene, ma vorrei rivolgermi ai più giovani, forse che ascolteranno. Affrontare le cose subito, il problema va risolto subito, problema non problema, ma comunque sia, bisogna essere veramente con la mente lucida il più possibile e non lasciarle marcire lì giorno dopo giorno. Anche noi stessi non bisogna lasciarsi marcire giorno dopo giorno. Grazie a tutti.